Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo e ahimè ultimo episodio della 7 Toddler Challenge. Ebbene sì raga, siamo arrivati alla fine, abbiamo già visto da calendario che in realtà domani, perché adesso è martedì e sono le 9 e 30 della sera, in realtà sarà mercoledì, è il compleanno degli ultimi 3 bambini, quindi finisce con questo episodio. Io volevo, finché mi ricordo, volevo ringraziarvi tantissimo per averla seguita insieme a me, questa challenge, io mi sono divertita un sacco a farla, è stata una ventata di aria fresca, veramente, una cosa diversa dal solito, spero che anche voi vi siate divertiti quanto mi sono divertita io, io ce l'ho messa tutta come al solito, certe cose chiaramente potevano essere fatte meglio, ma col senno di poi siamo tutti più bravi, quindi direi che è anche inutile stare qui a pensarci, a domandarci se, come, quando, ma e quindi raga, grazie. Detto questo, entriamo nel vivo della partita, vi faccio vedere le modifiche che ho fatto, ho aggiunto gli altri 3 letti, li ho messi qua, questo lettino l'ho messo qui, gli altri due così vicini qua, la sezione libri l'ho spostata di qua alzando questi quadretti che ora mi accorgo essere un po' concentrati rispetto a tutto questo, ma pazienza, l'orsacchiotto l'ho messo qui e al piano di sotto l'unica modifica è stata mettere l'albero di Natale qua e spostare le costruzioni un po' più verso i divani, quindi direi che riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati nello scorso episodio, ovvero io sono appena rientrata in gioco, ho fatto le modifiche che dovevo fare, ma non ho ancora premuto play, quindi direi che tutto è nuovo per me quanto lo è per voi, io lascio comunque al momento ancora la postazione qui perché abbiamo altri bebè per l'appunto, e a proposito di bebè qualcuno deve fare la pipì, qualcuno deve essere anche lavato, ma li portiamo giù a mangiare la torta, hanno mangiato come dei disperati, nello scorso episodio fra torte, recuperi di colazione, cose di questo genere, ma direi che non si poteva fare altrimenti, no credo si imbarazzi se io vado subito dentro mentre fa la doccia, quindi al momento pipì la facciamo mangiare, la doccia gliela facciamo fare dopo, tu l'hai già mangiata la torta? No perché credo che l'unica fetta sia stata la sua, e quindi oggi è Natale, quindi lui non va a scuola perlomeno, no in realtà possono andare a scuola, ma è quella facoltativa che vi viene scritto qua, vai a scuola, ma io gli faccio stare a casa oggi, cosa volete che mi freghi, così, detta proprio a caso, ma tu l'hai mangiata la torta? Io non mi ricordo mai chi le mangia, chi non le mangia, va a finire che poi uno se ne mangia otto fette e uno neanche uno, quindi tu ora puoi andarti a fare la doccia, io i letti li ho assegnati in ordine in cui compaiono i ragazzi, diciamo, quindi lei ha questo per esempio, lei ha questo, lei ha questo, e lui ha questo primo che gli avevamo già segnato lo scorso episodio. Ma tu l'hai mangiata la torta? No perché, perché hai la trottola? Ah doni domani, perché domani è Natale, quindi lei giustamente si pregusta già la festa. Allora, tu dove sei? Qua, e allora direi che vieni a fare la pipì innanzitutto, su un vasino totalmente zozzo, intanto il papà pulisce in giro e poi lo laviamo, tu vieni ad abbracciare l'orso, a parlarci, non lo so, fai cose, abbiamo visto che funziona più o meno, con un po' di pazienza e olio di gomito, perché anche lei, beh, tanto lei mangia, poi anche lei ha bisogno di essere lavata. Ok, proviamo a usare questa vasca da bagno, vediamo se funziona o se l'abbiamo incastrata in una maniera tale da non poterla usare. No, infatti questa non la possiamo usare, molto bene, bisogna cambiare quel bagno là, vabbè, ve lo scaricherete e ve lo cambierete, non so cosa dirmi. Vabbè, tanto ne abbiamo un'altra, pazienza, con la Z. Ah, mi ero accorta infatti nello scorso episodio che si era rotta l'asciugatrice. Vabbè, intanto vai a dormire, ci penseremo dopo a... alla fame, vieni a dormire anche tu e dobbiamo lavare lei, Francesca. Oh, nel frattempo è arrivata la prima notifica, ma ci pensiamo domani mattina. Ora non mi ci metto anche perché sono tutti stanchi. Domani facciamo tutto fatto bene. E per tutti sono stanchi intendo principalmente lui. Così, giusto per essere specifica. Allora, siccome adesso abbiamo dei bambini, possiamo schiavizzarli. Ah, non si dice schiavizzarli. Beh, possiamo approfittarne, ecco. Forse così suona meglio. A fargli fare tutti questi piccoli lavori di pulizia che altrimenti Gianluca diventerebbe pazzo a fare. È arrivata anche la notifica del compleanno di Guglielmo, ok. Io però l'unica cosa è che non ho la scatola per le decorazioni esterne. Non l'ho messa, cioè mi sono dimenticata. Pazienza, tanto fuori non ci andiamo. Perché, raga, visto che siamo in periodo di coronavirus, fuori non si va, hashtag io resto a casa, anche in The Sims. E soprattutto i miei simmini non hanno l'autocertificazione. E soprattutto non dovrebbero fare degli spostamenti di vitale importanza. Perché la spesa non la si fa più sul 4. E quindi, insomma, sì, hashtag io resto a casa. In tutti i sensi. Quindi, un bel piatto di pesce alle 7 del mattino. Il pesce fa bene, è ricco di, cos'è? È ricco di che? Omega 3, proteine, cose, è ricco di cose. Così. Sono una persona estremamente acculturata, tal riguardo, come potete vedere. Il mio secondo lavoro è la nutrizionista di noi altri. Allora, mandiamo giù anche gli altri ragazzi intanto a far colazione. Ci sono quattro portate giuste qua, quindi apposta per i nostri ragazzi. Papà Gianluca qua, papà Castoro, è ancora ciaone nel mondo dei sogni. Io volevo far passare i ragazzi di età, ma mi manca ancora la notifica di Damiano. Mi è arrivata di Guglielmo, di Francesca, e basta, perché dopo sforiamo a quelle di ieri. Quindi... Aspettavo quasi quasi a farli passare di età tutti e tre insieme, in modo da andare nel CAS una volta sola. Non so perché mi sono messa in testa che voglio la notifica per fare le cose fatte bene, sperando che la notifica di Damiano non arrivi tipo alle sei del mattino. No, neanche a mezzanotte. Ah, ce n'è ancora? Ce n'è uno. Ok, però l'hanno preso tutti, ok. Allora ce n'erano quattro, ma i bambini bisognosi erano tre. Intanto, i ragazzi potrebbero decorare l'albero. Decora con... Facciamo la base di tessuto blu e verde, giusto per essere in tema con la casa, qua la stanza è più o meno verde, e facciamo decorare ai ragazzi. Comunque, chi sta guardando questo episodio il giorno giusto in cui è uscito, avrà notato che abbiamo festeggiato 76 volte il Natale, fra... Cos'era il gameplay? Siamo andati con Camilla e Jacopo a pattinare al parco Pianta Madre. Poi... Oh, finalmente la notifica di Damiano! Poi siamo andati anche nella mini serie Vita sull'Isola, siamo andati a festeggiare, siamo stati a casa di Maila e abbiamo festeggiato... Io prima però lui lo farei mangiare, prima di fargli fare la torta. Questo sarà tipo il terzo Natale in 15 giorni, più o meno. Allora, Ghirlanda. Campane blu e bianche, nastro rosso e dorato, mirtilli rossi americane. Facciamo campane blu e bianche, sempre con le ragazze. Noi ci... Rimaniamo con chi c'è al momento. Lui si è rotto le balle, ha detto ciao. Ornamenti giallo e bianco, rosso e oro, blu e bianco. Abbiamo fatto tutto blu, quindi direi che rimaniamo sul blu. Vedo che però loro, le ragazze dovevano ancora finire, quindi... Decora la Ghirlanda? Cosa vuol dire? Che manca perché lui non ha fatto la sua parte? Eh, infatti manca. E il puntale però ce lo deve mettere un adulto, chiaramente. Quindi l'adulto purtroppo sei tu. E colloca... No, sa... rimposta la decorazione. Decora, puntale, moderno, blu e bianco. Moderno, rosso e bianco, bianco e dorato. Beh, moderno, blu e bianco. Allora, tu sulla tua stanchezza puoi fare... Cioè, sulla tua pipì, scusa, no, sulla tua stanchezza. Puoi fare qualcosa a riguardo. E intanto mettiamo anche il puntale. Eccolo qua. E accendiamo le luci, direi. Accendi l'albero con chi dei ragazzi vuole partecipare. E collochiamo il cumulo di doni. E dopo, quando tutti passano di età, anche gli altri tre, che adesso appunto gli faccio fare la torta per festeggiare. E apriamo i regali tutti insieme. Se i bimbi ce la fanno, perché sono tutti stanchi. Soprattutto lui. Vabbè, io li lascio fare i capricci al piano di sopra, perché tanto comunque non si ottiene niente neanche facendo i capricci. Quindi a sto punto... Fate quello che volete. Ok. Allora, andiamo in ordine. Non credo cambi molto, ma... Francesca, Guglielmo, in ordine come sono qua sotto, insomma. Francesca. Cerchiamo di metterle un tratto diverso rispetto agli altri fratelli. Proviamoci, non che ci sia qualcosa di prestabilito. Ricominciamo con la creatività e le mettiamo il tratto allegra. Sembra un maschietto con questo taglio di capelli. Guglielmo? Non che ci sia niente di male, però è ancora un'età abbastanza particolare. Sembra sì un maschietto. Dopo glielo vediamo un attimo e vediamo se c'è qualcosa che può starle meglio. Giustamente. Mi sembra giusto. Mentale. E lo mettiamo perfezionista. E infine andiamo a prendere Damiano e festeggiamo anche Damiano. Tutti piantati qua. Ok? Mettiamo motoria. Ho ricominciato da capo, praticamente. E lo mettiamo... Schifiltoso, dai. Non so perché Damiano mi dà l'idea di essere schifiltoso. E adesso andiamo a cambiargli il look. Allora, sempre in ordine di compleanno, partiamo da Francesca. Anche a lei ho tenuto gli stessi capelli che aveva da piccola, perché mi piacciono un sacco e le stanno anche molto bene. Comunque, questi sono i suoi abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il caldo e abiti per il freddo. Qua mi ha tenuto i primi capelli che le avevo messo, perché erano indecisa fra questi e quelli che alla fine le ho messo. Però ditemi anche voi, secondo me sta meglio così. Quindi li cambiamo anche là. Poi, secondo, Guglielmo ha una faccia veramente pazzesca. Gli ho tenuto anche a lui i capelli più o meno uguali. Ci sono questi sfumati, però devo dire che non gli stanno male. Comunque, abiti quotidiani, formali, comunque guardate formali tutto in giallo, bellissimo. Sportivi, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il caldo e abiti per il freddo. E infine, sto giro per davvero, ma non perché sia meno importante, forse era il più rompiballe. Damiano, direi che ha una faccia da saccente, sembra già un anziano a una tenera età. Comunque, abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il caldo e abiti per il freddo. Torniamo a noi. Allora, raga, ulteriori modifiche, chiaramente, alla stanza, ho dovuto per forza far così, altrimenti non ci stavano. Un letto qua, un letto qua e uno qua. Ho spostato questa roba qua, togliendo una libreria. Il bagno non mi sono messa a sistemarlo, perché sennò veramente non finisco più. Però almeno, uno, due, tre, quattro, almeno, tipo adesso, quelli nuovi appena cresciuti, che hanno bisogno di dormire, almeno hanno un posto per farlo. Tutto qua. Chiaramente, se la challenge fosse continuata, mi sarei premurata di sistemare la stanza un po' meglio, ecco, quello chiaramente. Allora, quanti di loro sono in crisi esistenziale, che devono assolutamente andare a dormire? Beh, sono solo quelli nuovi. Qualcuno ha già ceduto. Quindi direi che al momento li facciamo dormire. Qua sta succedendo un disastro, lurido e umido. E infatti lo rilaviamo da capo, insieme a questa roba nuova qua. Sistemiamo un po' qui casa, finché i ragazzi intanto, quelli che hanno bisogno, si riposano. Cioè, guardate, era seduta, niente, doveva farsela addosso. Sono robe che non concepisco, ormai eri seduta. Vabbè, bella questa comunque in salopettina, con la camicetta, a fare cose, eh. Allora, riposati anche tu un attimo, perché dopo più tardi apriamo i regali. Ormai è già tardi, ma vabbè. Si sa che con questa challenge le cose vanno così. Non mi sono neanche messa, non ho neanche messo i cumuli di doni. Non mi sono neanche messa a togliere i giocattoli, raga, perché veramente dopo oggi basta. Cioè, nel senso, sarà una partita che non toccherò più. Allora, pulisci tu qua, così impari a pisciarti addosso. Colloca il cumulo di doni. Io poi... Cos'era sto rumore? Ah, il mostro! Vabbè, tanto ti avrei svegliata lo stesso. Quindi vai tranqui. Perché la lampada è tanto in là, quindi non li copre tutti. E come vi dicevo, non mi sono sprecata di metterne... Di mettere un sacco di cose, era giusto perché se avevano bisogno adesso, almeno erano tranquilli. Non per altri motivi. Per esempio, anche lui deve lavarsi. Non ce la faremo mai ad aprire i regali, raga, no? Che mi interessi particolarmente, devo dirvi la verità. Allora, vorrà dire che i doni li apriremo... No, mira le luci, ho sbagliato. Apri i doni, selezioniamo tutti, poi chi vuole venire viene, chi non vuole venire ciccia. Chi comincia? Nessuno ha l'azione, molto bene, siamo qua a fissare l'albero. Apri i doni, riselezioniamo tutti di nuovo, qualcuno incomincerà. È un po' come quando vai a ballare, che c'è sempre qualcuno che deve aprire le danze, altrimenti nella pista non c'è nessuno. Aggiungi un dono? Forse è così strano, perché, voglio dire, è sempre fatto così. Si comincia? Oh, là, qualcuno comincia. Mr. Floppy lo gnomo. Bello schifo. Lei cosa riceve, invece? Un uccello preistorico. Dopo li andiamo a guardare, cosa sono. Una teiera antica grezza, ok? Un modellino del furgone banda rapine con banane. Beh, chi è che non fa rapine con le banane? Potremmo dire, no? Uno zaffiro! Cioè, forse è quello che è dato meglio. Teoria, tutti abbiamo aperto il regalo. Forse lei no? Una casa delle bambole di Mora per due. Molto bello. Allora, mandiamo a letto chi ne ha bisogno. Cioè, tutti, praticamente. E dopo ci guardiamo i regali. Sì, mandiamoli a letto tutti. Un tavolo scientifico Mago Junior. Guglielmo doveva ancora aprirlo, allora. Mi sa che forse è Damiano l'unico che non ha ricevuto niente perché era ancora a letto. Allora, sai cosa fai? Dai, vallo ad aprire anche se sei da solo. Mi dispiacerebbe che fossi l'unico a non aver ricevuto niente. Vabbè, fai a meno, allora. Cioè, non sta a aprirlo. Mi sa che cominciano i problemi di mostri sotto il letto. Andiamo a nebulizzare. Cossa, te nebulizzi. Non hai niente. Comunque è questo il tuo letto. Vabbè, è troppo spaventata. Non romper le balle a tuo padre, per favore. È troppo spaventata, ma non... Beh, bello. Bello, tutto molto bello, tutto molto bello. Ah, lui che va a letto, vabbè. Sciam perdere. C'è ancora? Aggiungi un dono. Praticamente se lo apre da solo. Allora, vediamo qua se c'è qualcosa. Eccolo qua, lo zaffiro. Questo deve essere lo gnomo. Come si chiama? Sì. Questo è il fossile. L'uccello preistorico, giustamente il fossile. E gli altri sono le luminità familiare, nell'inventario qua. Il tavolo scientifico, la casa delle bambole tipo questa. Il furgoncino e la teiera. Ok. Va bene. Va bene, va bene. Niente ragazzi. Io veramente non saprei come andare avanti. Nel senso che... Sostanzialmente noi la challenge l'abbiamo terminata. Quindi io non andrei ulteriormente avanti. Perché sennò avrei difficoltà a concludere. Più di quante io non ne abbia già adesso. Quindi mi limito a fare le mie conclusioni riguardo questa challenge. Cosa ne penso? Allora, penso che sia una challenge divertente. Senza dubbio. Si fa qualcosa di diverso rispetto al solito. Se non avete pazienza di stare dietro ai bebè, io forse ve la sconsiglio. Io avevo fatto la gavetta durante la 100 baby challenge. Quindi diciamo che c'ero abbastanza abituata. Però la tentazione molte volte è di buttare fuori il computer dalla finestra. Soprattutto per chi come me ha poca pazienza. Fidatevi che è tanta. Quindi vedete voi. Difficoltà che ho riscontrato durante questa mini challenge è stata soprattutto per quanto riguarda il divertimento e la socialità. L'attenzione, come si chiamano i bebè. Con la scusa che l'autonomia è disattivata, i bebè che hanno bisogno di divertimento chiaramente non andranno a giocare da soli. Devi dirglielo tu. E soprattutto durante le interazioni fra di loro, una volta che hanno finito l'azione per esempio di balbettare o di parlare di qualcosa, la cosa termina lì, non c'è un seguito. Quindi è più difficile. Magari se c'è l'autonomia attivata continuano a parlare, continuano a parlare o di loro spontanea volontà vanno a parlare con qualcuno. Secondo me quelle due sono state le cose più difficili. Altre cose abbastanza complicate, soprattutto all'inizio, è il discorso del movimento e del vasino. Soprattutto se avete una casa su due piani e la camera da letto dei bambini è a secondo piano. Chiaramente finché i bambini non sono in grado di camminare bene a livello 2, non faranno le scale da soli. Quindi o fate una casa tutta su un piano o dovete, come ho fatto io, portarli su e giù, su e giù, soprattutto finché appunto non arrivano a livello 2. E il vasino, se siete come me delle persone a cui scoccia dover lavare i bambini tante volte, vi conviene cominciare subito a insegnargli il vasino. Altrimenti potete sì cambiargli il pannolino, però poi comunque si sporcano dopo un po'. Mentre col vasino si sporcano molto più lentamente. Anche qua sono tutte valutazioni che ognuno fa in base alla modalità di gioco con cui gioca. Se avete seguito la One Angel Baby Challenge, sapete io come l'ho affrontata, soprattutto nell'età dei bebè. C'erano dei punti fondamentali che io volevo raggiungere quasi subito. Se avete notato vi ho lasciato la playlist della One Angel Baby Challenge alla fine di ogni episodio di questa challenge. Per chi non l'ha vista e chi voglia darsela a vedere, appunto, avete il collegamento diretto senza dover fare troppa fatica. Quindi questo è quello che penso. Io comunque mi sono divertita molto di averla girata. È un periodo un po' così, per i posteri siamo in periodo di coronavirus, quindi volevo fare una settimana alternativa dove pubblicavo un video tutti i giorni. Ho pensato che questa mini challenge ci cascasse veramente a fagiolo. E quindi, vabbè, io mi sono divertita. Spero che anche voi vi siate divertiti. Vi ringrazio per averla seguita con me. E io vi lascio qua per questa challenge. Ma vi ricordo che nel mio canale ci sono un sacco di altre challenge terminate o in corso. Gameplay, miniserie, quindi se siete nuovi e avete voglia di andare a dare un'occhiata, trovate tutto nella sezione della playlist. ID Origin, giù in infobox, la casa e la prima versione della casa, quella dell'inizio della challenge e la famiglia appena creata le trovate già in galleria, mi raccomando di spuntare la casella del materiale personalizzato in modo da trovare la famiglia, perché non so perché mi dice che c'è del materiale personalizzato quando in realtà non c'è. Quindi io, ragazzi, grazie ancora, ma vi lascio qua per questa challenge. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti ragazzi!